Eccolo qua, Andrea Salerno! Andrea Salerno, eccolo qua! Ecco, voi immaginate che in un ospedale, diciamo, mi chiama Valerio e mi dice, mi legge questo monologo, diciamo, io stavo in una situazione più complicata di quella di adesso, no? Non pinnavo, però, diciamo, devo dire che Mattia è sempre avanti, ci ha raccontato molti anni fa, con questo inedito che ha trovato Valerio nelle mail, quanto le nostre città siano più adatte al motocross spesso che la circolazione. Comunque, diciamo, tutto adesso va per il meglio e voglio dire che io e Diego, comunque, ancora possediamo il record di tutti i verdi della Colombo. No, la famosa onda verde, la famosa onda verde della Colombo. La famosa onda verde, noi abbiamo, diciamo, battuto, penso, sette semafori verdi di continuo. Sì, non lo fate, però, detta così domani non lo farà a casa. Non lo fate, non lo fate, non so se lo rifarò, tutto qua. Adesso vi lascio, perché sennò poi mi accollate allo sforo di questo programma. Esatto, esatto. E ci vediamo venerdì in studio. Va bene, Andrea, grazie. Grazie, ben tornato a casa tua. Grazie.